cari amici di mille un'avventura iniziamo questa serie di 20 d'avventura su starfield iniziamo una nuova partita perché abbiamo appena avuto accesso a questo gioco mentre gli altri che hanno preso la versione più costosa hanno già giocato una settimana ora questo è registrato ma cercheremo prossimamente di farlo in diretta per quale motivo perché è un gioco che sicuramente merita ed essendo il 7 maggio 2330 vogliamo scoprire che cosa ci riserva il futuro il filmato che vedrete la registrazione che vedrete è qualcosa che nell'ultima settimana si è vista un milione di volte con questa superviso visionatrice sul peer supervisora lin che ci spiega un po com'è la nostra situazione siamo in questa zona in cui in questo pianeta minerario e dobbiamo andare estrarre cose ci spiega tutto quanto questo ovviamente uguale per tutti arriveremo tra poco come avviene in skyrim come avviene in tanti giochi di bethesda arriveremo alla personalizzazione del personaggio per il momento però seguiamo la supervisora e cerchiamo di capire quali sono i tasti che dobbiamo usare per muoverci la missione si chiama un piccolo passo siamo in questa miniera e ora dovremo in qualche modo assumere il nostro ruolo di minatore dobbiamo prendere questo recisore che serve per estrarre i minerali o quello che è non ci dice nulla però capiamo visto che ci sono i segni che dobbiamo andare a estrarre questo berilio e noi andiamo a estrarre il berilio dopodiché arriviamo in questo punto dove si scava un'altra galleria si trova un'altra grotta dove c'è qualcosa di strano gli scanner andiamo gli scanner stanno sondando tutto eller rileva i dati ci sono dei problemi c'è un picco nel campo gravitazionale quindi è il nostro turno di andare chissà cosa ci aspetta lì dietro mancano una decina di metri accendiamo la torcia perché non si vede nulla strane letture gravitazionali ci dice e ci avviciniamo cautamente e c'è questo c'è questo materiale ci sono anche dei pezzi di metallo che fluttuano che riusciamo anche a colpire usiamo il recisore per frantumare questo giacimento minerario e c'è questo strano oggetto e noi ovviamente non possiamo fare altro che prenderlo perché altrimenti la storia non andrebbe avanti tutto molto su dei binari succede questa cosa stranissima non sappiamo che cosa sia facciamo questo trip e ora ci recuperano e la supervisora cerca di farci tornare in questo mondo ecco abbiamo perso i sensi non è successo nulla di preoccupante non si sa bene se il cervello è integro ma a questo punto ci chiede nuova recluta ti riconosci ti sembra familiare io direi di no che con questo barbone non ci sentiamo assolutamente a nostro agio e quindi andiamo a cambiare un po' tutto quanto e alla fine finalmente riusciremo forse a riconoscerci ecco già così ci riconosciamo di più vedete la testa somiglia molto di più così no forse così può andare togliamoci questo barbone perché assolutamente non si può vedere poi il profilo non riesco a vedermelo può darsi che vada bene i baffetti ci sono sono un po' scuri ma ce li teniamo così ecco nel 2330 siamo ringiovaniti tantissimo e ora altre cose dermoestetica c'è una personalizzazione molto spinta è quella di più di dieci anni fa di Skyrim ecco impallidisce ora tra tutte queste queste possibilità che abbiamo per il nostro background mi piace Esplora Mondi vorrei esplorare un po' di pianeti ovviamente tra un po' cercando di abbandonare la campagna per evitare tutte le cose che già avete visto e provare a esplorare un po' quindi introverso educazione universale e poi siamo abbiamo una predisposizione spaziale spaziale qualunque cosa voglia dire e a questo punto completiamo mettiamo il nome cioè Leo Boss 67 nome adatto per chi è in vita nel 2330 che immagino abbiano dei nomi di questo genere e partiamo ora che abbiamo ripreso i sensi eccoci qua con la nostra bella tutta spaziale ci facciamo una corsetta dobbiamo seguire la supervisora questo tizio questa tizia sta parlando saltiamo qui stanno parlando tutti quanti ma direi che andiamo anche a vedere l'inventario come è fatto abbiamo raccolto un po' di cose dei bicchierini di carta cose molto utili e poi ecco mettiamo il casco spaziale da scavo usciamo ed ecco che seguendo la supervisora vediamo di uscire fuori dalla miniera dalla base quello che è l'impatto anche della colonna sonora è notevole non è che sia un pianeta molto interessante comunque sta già arrivando questa bella astronave che è un modello classico un modello classico che speriamo di poter pilotare al più presto dobbiamo incontrare il cliente noi abbiamo trovato questo pezzo di metallo e dobbiamo consegnarlo a questo tizio che a quanto pare non vede l'ora di regalarci la sua astronave non ho ben capito tutto il discorso ma ci regala l'astronave tra poco ecco si stupisce che i grandi misteri dell'universo ci siano stati rivelati però purtroppo arrivano i pirati e allora cerchiamo di recuperare una pistola non male che siamo in tanti e che c'è anche questo robottone che si chiama Vasco quindi Vasco Vasco Rossi immagino che sia un appassionato del cantante e dato che non sono molto pratico di quanto si deve sparare con queste armi io ovviamente i 12 colpi li sparo tutti a raffica senza colpire assolutamente nulla la nave pirata scappa forse stiamo sparando all'impazzata stiamo cercando di farli fuori tutti quanti qui c'è un pirata che ci colpisce e siamo riusciti a farlo fuori ma stiamo esaurendo i proiettili molto velocemente e allora visto che abbiamo finito i proiettili proviamo a usare l'attrezzo per minare per l'estrazione dei minerali e a quanto pare funziona bene anche questa bene abbiamo respinto i pirati non ci resta che fare l'ultima chiacchierata mi ha regalato la sua nave sono contento Vasco controllerà che non gliela distruggiamo ma ovviamente noi lo faremo al più presto eh sì sono io il nuovo capitano di questa astronave allora prendiamo possesso andiamo a vedere com'è fatta è la solita astronave che danno sempre all'inizio qui c'è del medicit altre cose interessanti un estintore può essere utile questo è un AMP ah qui sopra si può salire a bordo dalla stiva saliamo su caricamento ecco il Vasco presume che noi sappiamo ah qui c'è il mitico panino morsicato che adesso andiamo subito a a mangiare così ce ne liberiamo subito del panino morsicato e provviste eccolo lì dunque c'è il c'era anche un altro un'altra cosa che ci siamo mangiati ma andiamo a pilotare vediamo se è abbastanza profonda la sensazione di pilotare questa nave o se è simile a tanti altri giochi ho già capito che non è simulativo per niente anche vedendo altri gameplay ci accontentiamo speriamo che comunque dia soddisfazione come viaggi nello spazio ecco già questo partire così mi lascia un po' perplesso ma pazienza non possiamo pilotare noi a meno di non essere spero nello spazio ed ecco qui praticamente ci sono altri pirati che dobbiamo distruggere abbiamo dei laser abbiamo dei missili più o meno abbiamo capito come ci si muove non è difficile a parte che gestire l'energia tra scudi motore e tutto stiamo per essere distrutti e speriamo di non esserlo perché ci dispiacerebbe dovremmo riparare la nave ce n'è un'altra nave pirata qui che ci spara tentiamo di averla davanti dove è finita ci sta sparando dietro dobbiamo assolutamente volevo riparare la nave ma non capisco qual è il tasto per farlo ecco qui il pirata lo bersagliamo ed ecco che abbiamo distrutto c'è Vasco che si è lanciato a insulti molto proprio Vasco bene direi che arrivati fino a qui ci possiamo anche accontentare Vasco ci sta spiegando tutto dovremmo andare sulla luna di Kreet ma per il momento direi che continueremo in qualche diretta questo è il sistema solare in cui ci troviamo non in scala ovviamente perché non è possibile che i pianeti siano così vicini dobbiamo raggiungere la luna Kreet e cercheremo di farlo prossimamente ma adesso direi di passare nella parte abitativa della nave eccoci qua con i nostri baffetti e direi di andare a mangiare ancora qualcosina e intanto vi ringrazio per l'attenzione torneremo su questo gioco che sicuramente può essere valido allora qui c'è una mela quadrata ovviamente le mele quadrate sono fatte apposta per occupare poco spazio e ci mangiamo oltre alla mela anche questo questo pane e la mela quadrata bene è l'inizio è uguale per tutti tranne la personalizzazione del personaggio cercheremo più avanti di non seguire proprio la trama principale ciao a tutti ciao a tutti